Uno dei punti fondamentali secondo Carvino era la molteplicità e noi l'abbiamo reso con un brano dal titolo All the themes are three. Volevo anche presentare Elena Camerini, nuovamente un applauso. Noi abbiamo scritto questo progetto due anni fa e è stato divertente perché lei è a New York e io da Venezia e via mail praticamente ci scambiavamo le parti, adesso al di là di quali sono brani, molti brani ne sono stati iscritti da me e lei ha scritto i testi oppure lei ha scritto la musica, io ho arrangiato alcune cose, quindi facciamo un lavoro a quattro mani e due computer praticamente via mail e grazie a finale. Grazie per l'ascolto e quindi concludiamo questo ultimo set, breve set, questo concerto. Grazie a tutti. 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 Mauro Peggio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.